In collaborazione con... L'importante è dare continuità ai propri risultati, l'importante è costruire una striscia positiva, l'importante è non perdere, perché questo serve a muovere la classifica, serve a dare tranquillità all'ambiente, serve a dare anche sicurezza ai giocatori. La Feralpi continua in questo suo percorso. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Feralpi Salò News, l'appuntamento dedicato ai Leoni del Garda con particolare attenzione al settore giovanile. Ecco spiegata la presenza qui nei nostri studi di Adriano Bonori, responsabile scuola calcio Salò. La settimana scorsa abbiamo ospitato colui che si occupa della scuola calcio a Brescia, perché la Feralpi Salò ha deciso di sbarcare anche a Brescia. Quest'oggi invece è tornato a trovarci Adriano Bonori, che come diceva è responsabile della scuola calcio per quanto riguarda Salò. Scuola calcio di Salò che, lo possiamo ricordare, vanta quanti ragazzi? Un centinaio, dai 95 ai 100. Sono tutti di Salò oppure provengono anche dai comuni limitrofi? Provengono dai comuni limitrofi, da Prevalle, dalla Valsabbia, Valtenesi. Diciamo che siete un punto di riferimento per la Valsabbia. Sì, Valsabbia e Basso Lago. E Basso Lago. Desenzano, Padenga, Moniga. Poi torneremo naturalmente ad occuparci del settore giovanile, ma come sempre andiamo a vedere che cosa è accaduto nel campionato di Lega Pro. Vediamo quali sono stati i risultati di quest'ultimo turno. Non mancano, come sempre, le sorprese. Abbiamo già detto del buon pareggio conquistato dalla Feralpi Salò fuori casa contro il Suttirol, che squadra comunque Coriacea. Albinoleffe e Pavia si è chiuso con il successo del Pavia, conferma del momento difficile dell'Albinoleffe, mentre il Cittadella ha regolato il Padova in un derby particolarmente sentito in zona. Poi sorprende la sconfitta del Mantova in piena crisi, la squadra allenata da Riccardo Maspero e, lo ricordiamo, di proprietà del gruppo bresciano che fa riferimento alla SDL. Cuneo che in questo modo conquista la sua prima vittoria e i suoi primi punti stagionali e torna a vedere in qualche modo la luce. Poi pareggio tra Gianna Erminio, che è un po' la rivelazione di questa fase iniziale della stagione, e il Bassano, considerata una delle grandi di questo torneo. Perda ancora la Propatria, questa volta a fare man bassa il Lumezzani di Dastoli, sempre più vincitore, sempre più vittorioso in questa fase della stagione, dopo un inizio difficile. Pordenone e Cremonese chiudono invece sull'1-1 il proprio confronto, mentre l'Alessandria di Beppe Scienza rifila quattro reti fuori casa alla Propiacenza. Identico risultato, 4-0, quello che premia la Reggiana a spese del Renate, del pareggio tra Citirol e Feralpi, abbiamo già detto. Vediamo comunque la nuova classifica del campionato di Lega Pro, Girone A, al comando c'è sempre il Bassano, pur dopo il pareggio con il Gianna Erminio, che comunque è squadra che ha cominciato molto bene questa stagione, però adesso si avvicinano Reggiana e Pavia. Quarto posto per la Feralpi in coabitazione col Cittadella. Quindi troviamo un terzetto composto da Pordenone e Alessandria di Tirol e via via tutte le altre, con Lumezzane che continua a risalire posizioni in classifica, mentre continua a deludere in qualche modo la Cremonese, che non riesce proprio a staccarsi dal centro classifica, e come dicevamo anche prima, lo stesso Mantova, formazione che a questo punto rischia di essere risucchiata nelle zone basse della classifica. Unica squadra che resta ancora a zero punti è la Pro Patria, per la quale si annuncia un campionato davvero molto, molto difficile. Io direi però che spicca naturalmente il risultato della Feralpi, che è protagonista di un grande inizio di stagione. Abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, Adriano, come i risultati della prima squadra possano essere molto importanti per l'intero settore giovanile, l'intero movimento che fa riferimento a Salò. È così? Verissimo, fa da traino, da spinta, da vetrina per tutto il settore giovanile, e quindi ci aiuta tantissimo nel rapporto con le società, nell'avere questa collaborazione che cerchiamo con tutti. Oltretutto molti dei tuoi ragazzini vengono allo stadio alla domenica, quando è possibile naturalmente, chiedono quindi il risultato, si appassionano e questo crea un istinto di appartenenza, un senso di appartenenza, per meglio dire, che può essere fondamentale anche nel proseguo di quello che sono i vostri obiettivi. L'obiettivo è proprio quello dell'appartenenza del gruppo della Feralpi, della Feralpi Solò, soprattutto di unione di un gruppo che quest'anno, come hai detto bene tu, fa parte anche della Scuola Calcio di Brescia, che amplia queste nostre potenzialità. È un riferimento in più, diciamo, il fatto di essere a Brescia, un'opportunità in più. È uno stimolo anche, e spero che lo sia, anche per le altre società professionisti che sono da anni, che stanno facendo veramente bene, ma che ci veda come uno stimolo. Per noi è importante, è una crescita incredibile, ma che sia anche di stimolo. Evidentemente avere alle spalle una società seria come la Feralpi Solò, avere alle spalle un riferimento serio come un gruppo imprenditoriale, come quello che fa riferimento a Giuseppe Pasini e alla sua famiglia, è anche questo, credo, di fondamentale importanza. Pensiamo a che tipo di certezza si può offrire ad un genitore che deve scegliere dove mandare il proprio figlio. Sicuramente l'organizzazione. Ognuno sa cosa deve fare, ognuno sta al suo posto e fa ciò che deve fare, senza fare altro. Ha il suo compito e lo fa nel migliore di modo. Quello devi fare e fai quello. Torniamo alla prima squadra, abbiamo detto dello 0-0 col City Roll, andiamo a vedere che cosa è successo nei riflessi filmati e nel servizio che ha preparato per noi la nostra redazione. Vediamo dunque il servizio firmato da Fabio Petteno. È un punto di sostanza quello che la Feralpi se lo porta a casa dalla trasferta di Bolzano contro il Sud Tirol. Un punto conquistato contro una squadra battagliera come quella allenata dall'ex fantasista di Milano e Brescia, Giovanni Stroppa. Un punto che permette alla compagine del patron Giuseppe Pasini di rimanere nei quartieri alti della graduatoria. Un punto figlio di una prestazione ottimale da parte degli uomini di Michele Serena con i gardesani a recriminare per un presunto calcio di rigore non concesso dal direttore di gara per atterramento di Maracchi in pienare di rigore. Feralpi salò più pericolosa degli altoatesini nei 90 minuti di gioco complessivi con Pinardi a riprendersi il posto. In cabina di regia un greco a mezzo servizio è entrato nella ripresa Andrea Bracaletti ad avere sui piedi alcune importanti palle per la vittoria. Ma il laterale che in settimana ha festeggiato le 150 presenze con la maglia dei Salodiani ha dovuto fare i conti con Miori, estremo difensore del Sud Tirol, in stato di grazia. Non da meno è stata la prestazione di Caglioni, bravo a farsi trovare pronto nelle poche occasioni in cui i padroni di casa si sono affacciati dalle sue parti. Grazie a questo ennesimo risultato positivo la Feralpi salò vola a quota 11 punti in classifica con solo tre lunghezze di ritardo dalla vetta ad appannaggio ancora del Bassano. Insomma direi che è un grande inizio di stagione questo per la squadra allenata da Serena, i risultati stanno arrivando, c'è anche il gioco, una squadra che sembra essere stata costruita con perizia e che sta regalando grandi soddisfazioni ai tifosi saludiani. Tutto è bene quel che finisce bene, a patto che finisca in un certo modo ovviamente. Fondamentale anche l'inizio, essendo anche l'allenatore nuovo, deve conoscere l'ambiente, penso che ci sia un ottimo rapporto con Olli e con la società, di collaborazione. Secondo me è un allenatore che conosce molto bene la categoria, conosce molto bene i giocatori e quindi sa scegliere. È uno che secondo me ha vissuto molto bene lo spogliatoio. Si sa porre in un certo modo con il gruppo. Invece i rapporti per quanto riguardano Adriano Bonori e gli altri collaboratori e gli altri uomini che compongono il settore giovanile, il vostro referente è di volta in volta Piovani, piuttosto che Lodi, cioè sono loro gli uomini cui fate riferimento all'interno del settore giovanile. Sì, sono loro, i punti di riferimento sono loro, tutto parte da loro e poi si allarga e noi cerchiamo di portare avanti un certo discorso. Diciamo che è importante anche il fatto che adesso vi conoscete un po' di più, perché ormai Piovani non è lì da una settimana, conosce bene l'ambiente, si è calato in questo nuovo ruolo, lui che è stato giocatore, allenatore, adesso si occupa anche di organizzazione, anche se, ci ha detto più volte, fa fatica a non indossare la tuta e a non scendere in campo. Ha un grande collaboratore che è Pietro, che si interessa di questa parte predominante. Ammiro di lui e di Pietro la volontà di lasciare spazio anche a noi, l'iniziativa, sappiamo cosa dobbiamo fare, loro hanno la massima fiducia in noi e quindi non è indispensabile il confronto quotidiano. Ormai, come dicevi tutti, avete fiducia, sentite la fiducia di queste persone, sentite la fiducia della società e questo fa sì che sia più semplice lavorare, da una parte una responsabilità è un più, dall'altra però evidentemente questo ti dà modo anche di esprimere maggiormente le tue potenzialità, hai l'idea che si fidino di te e di poter fare le cose in un certo modo. Ed è uno stimolo per tutti, avere questa libertà ti permette proprio di dare tutto quello che vuoi. Ne riparliamo tra pochissimo, dopo l'interruzione pubblicitaria, restate con noi. Insieme con Feralpi Salò News, insieme ad Adriano Bonori, responsabile della scuola calcio per quanto riguarda la zona di Salò, perché come abbiamo ricordato anche nel corso della prima parte di questo nostro appuntamento, c'è anche la scuola calcio della zona di Brescia che è una nuova idea che è venuta ai dirigenti salodiani, che sta raccogliendo però un discreto successo. Scuola calcio, vogliamo ricordarlo Adriano, si tratta quindi di bambini, di ragazzi, perché magari si offendono, del? I più piccoli sono del 2010 e spaziamo fino al 2005-2006, questo è il nostro range. Quindi dovete fare un po' gli educatori e un po' gli allenatori in realtà. Verso il 2006 cominciamo piano piano a individuare quali potrebbero essere i possibili giocatori da portare e da selezionare, mentre per quanto riguarda gli altri, il 2010-2008 è proprio il gioco. Diciamo che l'aspetto ludico è fondamentale, quindi bisogna farli giocare. Molta attenzione all'individuo, al bambino, è vero che dobbiamo farli giocare, molta attenzione anche alle famiglie, con tutte le iniziative che poi Pietro ti ha elencato, quindi vanno a beneficio sia delle famiglie che dei bambini. Poi naturalmente ci sono i campionati, anche se la federazione sostanzialmente non emette una classifica, è evidente che ci sono le classifiche, è evidente che il ragazzino comunque gioca per vincere, si confronta con i suoi coetanei, vuole vincere perché è importante anche che sia così, anche se poi il risultato non deve essere fondamentale. I campionati sono cominciati da poche giornate mi pare, come sta andando? A due giornate, come sta andando? Bene, i ragazzi sono soddisfatti, hanno finalmente il loro campionato, dopo alcune settimane in cui si allenavano e l'amichevole, adesso hanno veramente il loro campionato, come dicevi tu, il bambino entra per vincere, sta alla base. Poi quello che spetta a noi educatori, allenatori è quello di fare accettare anche le sconfitte. Trovo molto giusto, la scelta della federazione è quella di premiare il tempo, non contare i gol, ma i tempi, quindi chi vince il primo tempo, il tempo avrà un punto, chi pareggia un punto a testa e quindi… Sì, anche perché praticamente se ricordo bene, tutti i giocatori che finiscono in distinta debbono entrare in campo, debbono giocare, proprio perché si cerca di privilegiare l'aspetto ludico, si cerca di fare in modo che a questa età abbiano tutti lo spazio che meritano, non è infrequente anche la presenza, se non ricordo male, di ragazze, quindi di bambine, no? È così? La nostra squadra mista dei 2005-2006 ha tre bambine, la Francesca, la Laura e l'Aurora, che è un nome particolare che mi viene mai in mente. Quindi Aurora, Francesca e Laura sono le tre fanciulle, la declinazione in rosa dei leoni del Garda e quindi le leonesse, le piccole leonesse in questo momento del Garda. C'è anche la fortuna di poter fare anche il quarto tempo, bene o male lo stiamo attuando anche se i tempi sono molto stretti avendo campi limitati, tempi limitati, però cerchiamo sempre di fare il quarto tempo e di poter fare sempre due tempi a tutti. Certo, di modo che possono giocare. Ma alla fine che cosa fa all'atto pratico il responsabile della scuola calcio di Salò? Cioè che cosa fa all'atto pratico Adriano Bonoli? Quello è sicuramente di gestire gli allenatori, i preparatori, i preparatori dei portieri, la gestione delle famiglie, tenere il rapporto con le famiglie, poi tenere il rapporto con le società. Quindi dall'anno scorso ho instaurato un tipo di rapporto particolare nel senso che non vado a chiedere a nessun giocatore, ma ho chiesto a loro, visto che conoscono molto bene i loro bambini, gli allenatori soprattutto, è responsabile. Bene, conosco molto bene i bambini, le famiglie, li vedono tutti i giorni e quindi sono loro che premiano un solo bambino per età, non serve che ne vengano 5, 10, 15 per poi fare dei danni a queste società, basta solo un bambino e questo bambino diamo la possibilità di poter venire durante l'anno, una volta al mese o due volte al mese, quando questo può, in base anche agli impegni scolastici, di conoscere l'ambiente, conoscere l'allenatore, conoscere i compagni ed eventualmente fine all'anno ci si ritrova con la società, con i genitori, se ne parla e se a tutti sta bene far parte della famiglia Ferral Pissalò e quindi avere un inserimento molto più graduale, molto più facile. Allora, l'obiettivo di una società come la Ferral Pissalò è quello di potenziare sempre più il proprio settore giovanile, evidentemente in prospettiva futura la speranza è quella di avere quanti più giocatori sia possibile provenienti dal proprio settore giovanile, perché questo in termini di risparmio economico potrebbe essere straordinario per una società piccola, seppur con alle spalle, come abbiamo già detto, una grande famiglia di imprenditori e una grande azienda come la Ferral Pissalò, è ovvio che il calcio deve cercare di camminare da solo, secondo Pasini e in quest'ottica si muove la Ferral Pissalò. Poi c'è l'aspetto educativo che però è altrettanto importante, io però, tornei all'aspetto sportivo perché mi sono sempre chiesto come fa un esperto, diceva se non fosse esperto non lo farebbe, quindi evidentemente è per questo che è esperto a riconoscere in un bambino di 5, 6, 7 anni i talenti che potranno consentire a questo bambino di diventare un domani un giocatore diciamo della Ferral Pissalò per non allontanarci troppo. L'errore più comune è fare dei danni, quello di imporre qualcosa a questi bambini, il bravo istruttore secondo me è quello che cerca di togliere quello che il bambino ha già dentro, farlo emergere solo quello e poi secondo me il bambino fortunato è proprio quello che è un allenatore che crede in lui, se già un allenatore non crede nel bambino già abbiamo sbagliato tutto, quindi l'allenatore che ma però no, tu hai questi bambini e da questi bambini devi mettergli a disposizione tutto perché possono… Ma si vede se uno diventerà un campione, ha delle qualità magari dal punto di vista anche dinamiche piuttosto che dal come si muove, dalla postura, sono queste e questo è il merito di giudizio. La base è la coordinazione, più è coordinato più opportunità, il tempo che dedica al pallone, perché lo sai benissimo, abbiamo parlato parecchie volte che questi bambini… Dicevamo di come una volta l'oratorio fosse una fucina, adesso invece è la Playstation che insegna a giocare a pallone, che è una cosa di una tristezza incredibile. Anche se qui a Brescia abbiamo avuto, come ti ha detto bene Paolo, una grande collaborazione da parte degli oratori, troviamo difficoltà negli oratori fuori, nelle nostre zone, perché ogni paese ha già la sua squadra e quindi l'oratorio non è più il punto di riferimento del calcio. Ma finisce col diventare la squadra del paese. La squadra del paese, bravissimo, di fare con Lodi e con Pietro abbiamo girato un paio, due o tre oratori, abbiamo proposto, ma è stato… Molto difficile, diciamo che sono cambiati i tempi. Loro sono in grosse difficoltà, con il personale, con i bambini, non hanno più questi numeri che avevano parecchi anni fa, adesso ti devi rivolgere alla società, tutti vanno lì. Ovviamente in una società come quella con cui ci confrontiamo ogni giorno, che cambia continuamente, in una società così non si può non pensare ad una società di calcio che non tenga conto della multirazialità, anche per voi è così ovviamente. Certo, sì sì, abbiamo di tutto. Come sempre, sì. Cioè vivono qui in Italia, alcuni sono anche con passaporto italiano e quindi non c'è… Non c'è nessun problema, insomma, anzi il calcio finisce col diventare un modo per… un mezzo attraverso il quale l'integrazione può essere migliore, dovrebbe essere così almeno o no? Il calcio è tutto lo sport, in questo caso il calcio perché ci interessiamo di calcio ma tutti gli sport… Ho visto che ti eri preparato, un po' di appunti, io invece come spesso accade vado un po' a ruota libera, che cos'è che non ti ho fatto dire che avresti voluto dire quest'oggi? Ma ho detto quasi tutto, grazie alla tua… Allora ci siamo, come dire, come se ci fossimo preparati prima. No, guarda, punto molto sulla famiglia, penso che la serenità di una famiglia la si vede nella ragazza e quando un genitore sa accettare e anche l'allenatore sa accettare il limite del proprio bambino, è da lì che puoi cominciare a lavorare. Anche perché guardate che i bambini lo sanno se sono meno bravi del proprio amico, lo sanno. Non hanno bisogno del genitore che spinga o che faccia qualcosa in più, escono loro. Il mio amico, il grande Chico Nova, che tante cose mi ha insegnato e che è stato un allenatore prima, dopo essere stato un grande giocatore, è stato anche un allenatore, mi raccontava spesso quando era al Brescia, allenava i ragazzini del Brescia, che c'erano davvero maggiori problemi con le famiglie, nel convincere il papà, piuttosto a volte che la mamma, che giocava tizio non perché fosse particolarmente simpatico, ma perché in quel momento era migliore di Caio, punto e basta e a volte basta chiedere ai ragazzi perché loro hanno già la risposta. Da lui, come dicevi bene, tu giocano tutti, magari quando ci sono le due squadre una gioca meglio, una gioca di più, ma è bene che ognuno si confronti con le proprie potenzialità, con quelli che hanno le stesse caratteristiche, è un modo per crescere, far giocare quelli bravi e tu lì in mezzo a fare da passapalla, non penso che salva molto, non è una grande crescita. Allora, prossimi impegni, prossimi obiettivi, continuare su questa strada tracciata ormai da qualche anno a questa parte dai responsabili della Feralpi, continuare a crescere, potrei dire continuare a far sì che il rapporto tra famiglie e quindi tra quello che dovrebbe essere un pilastro della nostra società, appunto la famiglia e una società sportiva sia un rapporto perfetto, di grande correttezza, educazione e sincerità, è così? Bravissimo, sincerità, ognuno sa cosa deve fare, c'è un regolamento, la famiglia l'ha letto, noi lo conosciamo molto bene, quindi basta solo rispettarla. Cos'altro aggiungere? Che dobbiamo solo ringraziare Adriano Bononi di esserci tornato a trovare, augurare a lui e a tutti coloro che si occupano del settore giovanile, la Feralpi Salò, un buon lavoro, grazie di nuovo ad Adriano, ricordo responsabile della scuola calcio a Salò, appuntamento la prossima settimana con Feralpi Salò News, in bocca al lupo per i tuoi bambini, grazie. Grazie a te. In collaborazione con Grazie a te.